Le frecchiappe non le riconosco Mi vuoi dire questo del piano, per favore? È il tuo piano, un tratto da Braveheart Il tuo esercito ha mostrato le chiappe al nemico Fino a costringerlo ad arrendersi, ti ricordi? No, non è andata così, ci ha attaccato una massa grande e sanguinosa battaglia, ricordi E' vero, non l'ho visto, non sul poster c'è Salta! No! Oh no! Omer, stai bene? Credo di... No...